Salve a tutti, mi chiamo Jorge Alberto Aldana, sono colombiano, abito in Italia, precisamente a Torino da 22 anni, ho fatto un po' di tutto, passando da essere badante, barista, di tutto un po', poi tramite la mia famiglia abbiamo iniziato questo progetto, che oggi è una realtà. La prima cosa che è venuta su Inter è Camera del Comercio, Camera del Comercio Futura E, Futura E, un percorso dove loro dicevano come andare e come fare perché un straniero possa fare impresa in Italia. Nel mio locale, come ne parlavo prima, nel percorso fatto in Futura E con Erika, con Iannone, Valerio, parlavo di fare un gioco con il riso, così come l'Italia lo fa con la pasta, c'è pasta al sugo, pasta all'arrabbiata, pasta al pesto e quindi lo stesso con il riso, fare il riso con faioli, il riso con frutti di mare, tipo la paella, che anche la paella l'abbiamo, diversificare un po' tutto il riso, rispettando però qualcosa nostra culinaria come l'empanata, così magari conoscete qualcosa della nostra cultura, di un frito, che è nostro. Senza della mia famiglia, mia moglie, miei due figlie, non avrei potuto andare avanti con questo progetto e a Futura E, campanelli del commercio, che sono quelli che mi hanno dato le linee da seguire per iniziare e per finire il progetto.